Signore, da ora e per sempre. Signore Gesù, anche a noi, come quel giorno lontano sulle rive di questo lago, tu dici, getta ancora la rete, invitandoci alla fiducia e alla speranza. Ma tu sai che tante volte questa fiducia e questa speranza sono difficili nelle nostre giornate. Grazie. 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 del suo amore e così quelle tre ferite sono sanate dalle tre professioni che Pietro fa.